Yugi e tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi siamo qui insieme a luca che ci porta la sua deck profile di dinamore ma ovviamente prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da jack store il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani trovate il link del loro store qua sotto in descrizione trovate anche il referral link il codice sconto se volete risparmiare qualcosa e supportarlo detto questo tre terizia mostro il main deck più forte del mazzo su normal o special fa settare una carta dinamorfia a deck quando va distrutto puoi specialare un dinamorfia e arrivare 4 inferiore dal cimitero 3d plus fa schifo non dico inutile ma ci arriva vicino però osservano i nomi quindi si gioca lo stesso questo su normal o special ti fa millare una magia o trappola dinamorfia e quando va spaccato speciala dal cimitero come terizia tre frenzy la fusione quella forte questa fa fusionare anche da dextra deck fa usare un mostro da extra deck e uno da deck per forza per questo serve di boss perché i nomi sono pochi bisogna usarli e come tutte le carte di dinamorfia ha l'effetto dal cimitero di pandiesi per proteggerti da danno o da effetto o da battaglia in questo caso da effetto 3domain altra fusione questa usa mostri da deck terreno cimitero meno forte dell'altra ma i nomi servono anche in questo caso quindi ne usiamo 6 intact la trappola nuova negati di mostro contro trappola e per usare di controllare un dinamorfia spacca cioè nega mostro e spacca e come tutte le carte di dinamorfia cosa che avevo detto ti rimezza di lp motivo per cui il mazzo fa schifo poi tutto il danno che prenderesti da battaglia per il resto del turno diventa metà dei tuoi life points in sostanza ogni volta che ti fanno danno da battaglia di mezzo i life points invece di farti danno che dovrebbero farti quindi rotto un life points diventa più veloce del dovuto questo nega magia di trappola protegge il danno da battaglia se dicevo prima c'era l'effetto secondario da cimitero questo protegge da battaglia anche intacte protegge da battaglia da cimitero nega magia trappola ti spacca un mostro sempre di mezzanotte life points forte perché fa partire letteralmente ogni singola dinamorfia che quando va distrutto fa cose normalmente specialare altro e alert qui ha indeciso se giocarne 1 o 2 perché questo è letteralmente un reborn in un archetipo e di mezzo di life points speciali fino a due mostri di non morfia con livello totale di 8 inferiore non è un gran che ma se devi andare a green game due possono servire un brutto brutto per gli amici di mezzo di life points ti spacchi un mostro dinamorfia che controlli e poi spacchi una carta dell'avversario ovviamente spacchi un mostro dinamorfia a parte l'effetto che ti fa specialare da dove gli parla lui eversion questo ti fa copiare una trappola dal che è al cimitero una contotrappola che è al cimitero ma solo se controlli fusione devo ancora capire se è forte oppure no non è male il fatto che questo protegga da danno da battle perché come dicevo prima sono tre le trappole che proteggono da battle e sono preziose perché altrimenti la prima occasione in cui ti trovo uno scoperto sei morto finita le carte dinamorfia passiamo al resto due lord perché spolverino è una carta e anche sto lord è una carta non ci piace quindi ci proteggiamo e può settare trappole da deck e sappia cosa fa lord se avete mai giocato contro labyrinth sapete cosa fa lord le scavi fossili per dare terizia 95 per cento di carte di terizia non vedo perché dovresti dare diplos due duality perché il mazzo la specie del primo turno non lo fa potrebbe essere prosperity perché l'extra lo usiamo veramente poco salvo per le fusioni non so preferito duality potrebbero giocare entrambi addirittura due ferret flames questa è una carta tanto strana quanto rotta in pratica quello che fa è se la somma degli attacchi dei mostri del tuo avversario è superiore ai tuoi life points fai rimischiare mostri al tuo avversario finché l'attacco totale dei tuoi mostri non è più basso di tuoi life points tu turno 1 devi avere 500 life points di conseguenza l'avversario si rimischia l'intero board passiamo alle entrap perché in questo formato altrimenti non esisti 3 hash base non lo so quando gioco abbastanza entrap hash ci va sempre troppo forte in perma perché perché è una trappola nel dubbio quando sentiamo 4 è bello saltare quinta in perma per droll perché il formato richiede il formato letteralmente è se non peschi una o più entrap perdi droll distrugge completamente non dico tutti i mazzi ma poco ci arriva passiamo all'extra deck ovviamente trekant regina questa perde attacco pari a life points che avete quindi veloce andare giù di life points per farvi chiamare il tempo ovviamente figuriamoci effetto rapido paghi metà dei tuoi life points perché ogni carta di questo archetipo si dimette il point e può copiare l'effetto di una carta trappola al cimitero una carta trappola di nomorfia sì 90% dei casi copio la fusione per controfusionarci sopra rextrum lo skill drain di noi altri non gioco skill drain perché c'è lui questo coso non permette all'avversario attivare effetti di mostri con più attacco rispetto ai vostri life points quindi avete 1000 life points avversario a un mostro con 1500 attacco non può attivare l'effetto effetto rapido abbassa l'attacco di tutti i mostri dell'avversario facendo diventare pari ai vostri life points molto semplicemente se torno due perché tornano state quattro passo torno due mettete la fusione mettete lei effetto copiate la fusione mettete lui e poi usate le trappole per cercare di bloccare l'avversario ma dovrebbe essere già abbastanza questo di base tre statberghia non è utile non è veramente utile questo coso però rextrum richiede una fusione per essere fatto e mandatelo al cimitero e via un evolzard dolca e un lacchia o lacchia seconda giochiamo dinosauri questi li faccio veramente poco spesso ogni tanto capita se non riescono un'altra billboard che avete ancora o terizza o diplos in campo mettete uno di questi per andare sul sicuro non c'è di meglio exiton ci piacciono i livelli 4 giochiamo exiton non c'è motivo di non metterlo le due fusioni base sono livello 6 tutti vanno lextrum quindi si gioca tolemi perché non può tornare utile ripeto non c'è niente di meglio da mettere questo se giocassi prosperity sarebbe il target uno tutti gli xil sarebbero target di prosperity uguale a wallo stesso discorso non è fortissimo in questo meta ma xil 6 li usi poco e magari quella volta wallo è più utile di altri ma non l'ho stato praticamente mai e zeus perché giochiamo xis dentro zeus e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate e se volete grazie e se volete che luca torni detto questo ragazzi state mesi e noi ci vediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti